Sabato 5 novembre si è tenuto presso il Centro Benessere Corporea, sito in via Toscanini ad Agropoli, una giornata all'insegna del movimento del benessere, dal titolo Open Day Olistico, Movimento Benessere e Nutrizione, nel corso della quale si sono svolte diverse attività, come Yogi Lates, Shatsu Riflessologia, Nutriceutica, Bioginnastica e Massaggio Ayurveda. Noi siamo un centro benessere olistico, pratichiamo massaggi prettamente olistici, quali Shatsu, Ayurveda, e praticamente sono massaggi specifici per ricaricare l'energia interiore, sono massaggi che vanno a riequilibrare praticamente tutto ciò che, tra virgolette, quotidianamente è squilibrato. Il mio ruolo all'interno del centro è un ruolo prettamente di operatrice appunto per riequilibrare il benessere psicosomatico. Quindi benefici fisici ma anche mentali per chi si sottopone ai vostri trattamenti? Sono benefici prettamente appunto per riequilibrare tutto ciò che viene scompensato in effetti durante il processo fisiologico del corpo. In effetti appunto vengono praticamente riequilibrati sia gli effetti psicologici, tant'è vero vengono fatti dei massaggi specifici per la mente, e tutto ciò che viene poi praticamente visto esteriormente nel corpo, quindi anche un semplice inestetismo, quale ad esempio una cellulite, un'infiammazione che viene fuori, noi adoperiamo dei trattamenti specifici olistici, nel senso che tutto ciò che viene fatto all'interno delle nostre cabine sono dei trattamenti non solo per quanto riguarda il trattamento corpo a sé stante ma bensì è una sinergia tra corpo e mente. Quindi un trattamento specifico, ad esempio anche riducente, è praticamente coinvolto un po' tutto l'emisfero che circonda sia la parte psicologica che la parte fisica. Quindi il cliente viene praticamente sollecitato attraverso trattamenti specifici quali sia il massaggio manuale e sia il massaggio olistico viene proprio stimolato dall'interno, quindi caricato interiormente per far sì che cresca praticamente un'energia positiva all'interno del corpo. In effetti per noi è appunto un mondo tutto particolare, nel senso che non siamo un centro estetico, bensì è un centro benessere dove noi richiamiamo praticamente la clientela a provare cose completamente nuove che già si sentono però le nostre zone sono un po' così ancora non conosciute benissimo. Allora, corporea cos'è? Corporea è tante cose, è un centro benessere, è un centro estetico, un centro olistico ma anche palestra, anche laboratorio di scienze motorie e quindi ci occupiamo un po' del benessere del corpo e della mente, diciamo così, dell'anima a 360 gradi. Cosa facciamo nello specifico? Nello specifico riequilibriamo quella che è l'energia all'interno del nostro organismo attraverso varie tipologie di trattamenti, come trattamenti sciazzo e iurvedici. Per quanto mi riguarda invece mi occupo direttamente della parte motoria, di tutto ciò che invece il nostro corpo è deputato a svolgere ogni giorno, come muoversi nello spazio ma anche concentrarsi per lavorare meglio e quindi per affrontare al meglio le attività quotidiane. Quindi nello specifico qual è il ruolo da te ricoperto all'interno dell'istituto? Allora, io sono un kinesiologo. Cosa è il kinesiologo? Lo spiego perché in genere non si sa il significato di questa parola. Il kinesiologo è un laureato in scienze motorie, quindi chi ha un titolo accademico è un dottore in scienze motorie, che ha studiato almeno 3, 5 ma anche 7 anni per specializzarsi nelle attività motorie preventive e adattate. Che cos'è la kinesiologia? Parliamo di kinesiologia. La kinesiologia è la scienza che studia il movimento umano, razionale e attivo. Questo significa che dal punto di vista fisiologico mi occupo, ci occupiamo noi kinesiologi, di tutto quello che è il movimento del corpo, quindi tutti quei movimenti che il nostro organismo ogni giorno compie. Vogliamo rivolgere un invito ai nostri amici da casa? Sì, allora l'invito, faccio due appelli, concedimelo. Il primo invito è quello di provare cos'è la kinesiologia, provare il nostro centro, perché è un centro particolare, diciamo così, e soprattutto di affidarsi a personale qualificato. Questo perché? Perché molto spesso il mio ruolo è ricoperto da avventori dell'attività motorie, e quindi da persone che non hanno titoli accademici, che non hanno studiato, ma soprattutto che non lo fanno per passione, per far star bene le persone. Ma solo per un discorso economico. Quindi il mio invito è proprio quello di provare di capire quella che è la differenza tra un'attività motoria adattata e preventiva, tra un'attività motoria specificamente costruita sul corpo delle persone, e quindi non soltanto su dicerie e quant'altro.